Se noi mettiamo i nostri corpi vicini vicini, senza il giusto, il corretto tiraggio dei corpi, come può succedere molte volte a molte coppie, perché si vede appunto che prendono posizione, si avvicinano con le pance e magari ancora non si sono nemmeno minimamente tirati su in posizione. Se io adesso che ho preso posizione con i piedi vicini e con il corpo scarico cerco di trovare il giusto bilanciamento, succederà che praticamente butto Simona fuori dai piedi. Perché? Perché non abbiamo più lo spazio sufficiente. Figuratevi quando andiamo in elevazione. Se io ora siamo vicini, abbiamo le teste scariche, quando io voi in elevazione tenderò a andare addosso a Simona e non completerò mai un'elevazione nel modo corretto.